Lutto nel mondo dello spettacolo e morto questa mattina nella sua abitazione di Fiesole, a pochi passi da Firenze, Enrico Greppi in arte Enriquez, volto e anima della banda Bardot, il più scatenato, roboante e colorato gruppo folk italiano in attività. Combatteva con una malattia da molto tempo, ma la sua riservatezza e la sua energia non avevano mai permesso di far trasparire nulla all'esterno. Enriquez rappresentava al meglio lo spirito di un guerriero generoso ed era un grande poeta. Con la banda Bardot aveva da poco festeggiato i 25 anni di carriera, con un grande evento al Mandela Forum di Firenze. Insieme a tanti artisti, amici e sin dalla sua nascita nel 1993, il gruppo era sempre rimasto fedele a se stesso e ai suoi ideali, diventando un punto di riferimento della scena musicale degli anni 90 e non solo, tanto che ancora oggi il coro Semirilasso Collasso continua ad essere cantato da ogni generazione. Molto riservato ma solare Enriquez si è anche battuto da sempre nel sociale, sposando le cause dei più deboli. Muzica Muzica Muzica